... Uccidi anche i giudici adesso. A quanto pare le lezioni che non si imparano col sangue si dimenticano. La vendetta ti fa dormire meglio la notte. Vendetta? Credi che lo faccia per questo motivo? Per vendetta? Che altro può essere? No, Nick. Ho avuto dieci anni per vendicarmi se avessi voluto farlo. Che cosa credi? Che non ti abbia mai visto andare al lavoro alle otto di mattina? O Kelly portare Denise a scuola alle otto e un quarto? Avrei potuto uccidere te o la tua famiglia in qualunque momento avessi voluto. Non osare nominare la mia famiglia. Non osare nominare la mia famiglia. Io faccio il mio lavoro. E sono il migliore. Funziona così. Hai sempre fatto il tuo lavoro per metterti una medaglia in più perché sul petto volevi una medaglia in più. Questo deve cambiare. Che cosa vuoi, Clyde? Sei in guerra col mondo intero ma non riavrai la tua famiglia. No, io sono in guerra con questo. Questo sistema sbagliato. Che ci ha messi uno di fronte all'altro. Questo è il sistema che fa funzionare la società. Credi che facendo quello che fai le cose cambieranno? Tu e tutti quelli che ora ti stanno appoggiando la pagherete. Io non credo che tu abbia idea di chi mi appoggi o di che cosa faccia. È questione di tempo. Tu vedi i cadaveri, vedi il fumo, ma il grande disegno ti è ancora oscuro. Illuminami. Vorrei farlo, ma preferisco mostrartelo. Mi fido ancora di te, quindi ti darò un'ultima chance. Questo è il patto. Rilasciami e ritira le accuse contro di me entro le sei del mattino. Le sei del mattino, Nick. Oppure? Oppure uccido tutti quanti.